ragazzi e ragazze bentornati video bentornati con la felicità di darvelo perché siamo tornati su motorsport manager finalmente dopo due mesi due mesi di totale inattività di questa serie riportiamo avanti e riportiamo dentro centrale nel progetto motorsport manager voglio finire questa serie voglio che questa serie alla fine di questa serie chiusa come lo dico io come lo voglio io sia all'inizio di un anno un pochino più deciso nelle cose e conclusivo in alcune ora come vedete sono già nella sezione della gara o meglio della qualifica che vedremo insieme ricordo che la qualifica nel secondo anno è stata modificata portando la sessione unica 20 minuti 18 minuti non mi ricordo quindi non ci sono più la q1 q2 q3 quindi la vedremo tutti insieme vedremo come sono andati i gran primi precedenti che ho corso recentissimamente veramente non ho aperto software per due mesi un po po me ne pento ma mi era sceso un po non tanto la voglia quanto l'intenzione no mi sembrava una serie abbastanza tranquilla potevo dire siamo un po meglio una cosa è andato poi contro nel senso ha iniziato a esserci un po di casini un po di serie in più poi ho bloccato per quasi un mese due o tre settimane non far video eccetera quindi è stato un accumularsi di cose purtroppo ne ha diciamo pagato lo scotto motorsport manager ma ho voglia di mettermela alle spalle di gestirla bene ma di mettermela alle spalle come serie conclusa finita e morta per quanto è un gioco carino che vi consiglia a tutti costerà niente perché ormai sono anni che fuori e scaricando di questa mod un po squilibrata perché un po squilibrata però vi permette quantomeno di avere in mano un manageriale di formula 1 diciamo così che sia anche con personaggi macchine livree tutto abbastanza molto regolare comunque attinente la realtà detto questo vi chiedo di lasciare un like se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto anche questo e di condividere questo video questa sera con altri appassionati di motori e di manageriali o comunque con gente che a cui potenziate possa piacere dopo dopo ne parliamo della situazione dopo la fine di questa gara parliamo della situazione del campionato come si è ammesso eccetera a questo punto non prendiamo altro tempo mettiamo super morbide nel setto da qualifiche super moda al setto da qualifiche così almeno abbiamo un boost del 20 per cento adesso non so se si accumuli proprio 20 per cento è il 10 per cento poi un altro 10 per cento quindi si sta parlando di un 17,5 per cento ecco non credo credo non lo so quale delle due a 7 perfetti come vedete addirittura due faccine viola proprio la perfezione e una sola verde al contrario anche per leclerc va benissimo così piove però piove per poco però continuerà a piovere allora a questo punto gli montiamo direttamente le intermedie sia leclerc che al nostro amico science è un peccato perché perdiamo uno di questi boost questo come super morbide non abbiamo nessun altro esatto forse riusciremo a fare un giro con le super morbide tra il nono vedete tra nove minuti e sei minuti tra tre nove minuti e tre minuti dalla fine vedete che c'è una finestra di sei minuti in cui a un certo punto l'acqua è minore ma è troppo poco tempo credo che dovremmo fare tutto il giro con le intermedie sperando che il nostro motore faccia la sua parte prendiamo prendiamo parte le qualifiche e andiamo allora questo è silverson ovviamente rimaneggiato ora usciamo subito perché ho bisogno di vedere come va ho bisogno di vedere come va per quanto riguarda poi dopo per essere pronto per fare un uscita in più rispetto agli altri dovrebbe essere importante quando mettiamo automatico mettiamo per 12 così velocizziamo allora le prove sono di 10 12 minuti dura pochissimo veramente come posso riscaldate ma partiamo tutte con l'intermedia ovviamente strolle mazzepin con le quelle full wet siamo un po esagerate ok siamo già davanti science terzo vediamo arriverà verstappen o verstappen perez ecco vi dovrò parlare poi della della minaccia che sono questi due che usciamo subito se facciamo in tempo a fare un giro con le soft dio mio esci immediatamente uscite immediatamente speri speriamo speriamo forse non facciamo in tempo vedete devono ancora finire il giro devono ancora finire giro lanciato inizia adesso ma non faranno in tempo non faranno in tempo vediamo viola primo settore viola secondo dai usi ragazzi no science non ce l'ha fatta ma leclerc leclerc ha fatto il miracolo ha fatto il miracolo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ha fatto il miracolo ha buttato dentro un giro allucinante ha dato un secondo aperto un secondo e tre per sta per non riusciranno a fare meglio con le altre gomme peccato peccato per science che è partito quel tic di ritardo e non è riuscito e si è migliorato ma non è riuscito a migliorarsi abbastanza ora a questo punto a lui gli faccio fare un altro giro con intermedia a science sperando non farà in tempo a farlo però ultimo minuto non farà in tempo e finisce qua niente non fa in tempo peccato science super peccato norris seconda posizione incredibile seconda posizione di norris perez 21 millesimi perez ci ruba perez ci ruba la pol vediamo se per sta per famiglio per sta per oh wow wow no non eravamo riusciti a fare un buon giro peccato qui ho missato io che ho fatto una gran cagata io porca miseria fest up in primo secondo amito ma con l'intermedia quelle gomme intermedi è stato un errore mio chiedo scusa come molesti del telefono mannaggia mannaggia ho sperato ci ho sperato peccato perché ultimamente in qualifica siamo quasi pressoché imbattibili ci sta ci sta vediamo in gara in gara danno sole potremmo utilizzare il bonus di scatto della nostra macchina delle nostre gomme si non piove non pioveva tutta la gara siamo assolutamente tranquilli va tutta la gara quindi slot mettiamo gomme morbide e assetto da gara idem di qua partiamo sempre con il vantaggio di mescola non mi interessa partiamo con vantaggio di mescola quindi medie per entrambi che sono le gialle ovviamente quasi sono morbide ma sono le gialle ovviamente al nostro scarletto gli tiriamo giù un po addirittura decimo sulla griglia vediamo com'è la griglia sono tutte patrano tutte con le super soft sì esatto dopo science iniziano i primi che provano a fare di sento un po più lunghi ma vediamo sarà una gara difficile ragazzi ci buttiamo subito in gara e vediamo un po come può andare eccoci qua ragazzi semafori si accendono finalmente di nuovo su questa serie cazzo le che a parte quarta posizione vediamo come reagisce il nostro beniamino al nostro monegasco se riuscirà andare a prendere quelli davanti e vediamo che siamo partiti qualcuno ha fatto bruttissimo un errore di emilton un errore di emilton noi ne approfittiamo relativamente perché in realtà norris ricciardo ci passano davanti norris ricciardo di passano davanti science guadagna qualche posizione si passa davanti anche bottas e anche science in questo momento attenzione attenzione leclerc un po in difficoltà in questo inizio di gran premio la cosa importante non far partire davanti non far scappare in questo caso bene perez perez verstappen ce l'abbiamo qua ecco non dobbiamo far scappare lui quello è poco ma sicuro ne mclaren hanno fatto un patto col diavolo col demonio probabilmente per essere così in avanti comunque vediamo vediamo per 4 vediamo di riuscire andare a prendere abbiamo un vantaggio di mescola e as questo è assodato e assoluto non lo dobbiamo sprecare stare molto tranquilli molto sereni vediamo che mettiamo dietro bottas mettiamo dietro ci mettiamo davanti per sta penna ce l'abbiamo lì perez fa un altro miglior giro la mclaren usate mille red bull anche questo ha fatto un bel patto col demonio ne dobbiamo parlare a fine a fine gran premio ne parleremo sicuramente vediamo se l'attacco su verstappen va a buon fine sì grandissimo carletto carletto si mette dietro e si mette negli scarichi della mclaren di ricciardo perez è un po sparito superiamo mamma mia mamma mia carletto is on fucking fire invece science fa sempre un po fatica santo cielo fa sempre un po fatica vediamo di farlo accelerare un po anche lui perché fa sempre un po fatica leclerc ha fatto giro più veloce vediamo se lo fa adesso c'è davanti c'è davanti norris si mette mamma mia carlet mamma mia ha capito che non c'ha voglia di perdere tempo ed è un grande in poi una cosa molto importante perché fa sta bene quinto ragazzi e quinto e la classifica piloti si potrebbe allungare in maniera importante ora se science emilton è cascato ha fatto un errore amoroso ma anche di lui ne dobbiamo parlare dopo vediamo come va ragazzi ci vediamo al giro più veloce mamma mia che va bene fai tutto tu fai tutto tu ci vediamo al primo p stop che noi sarà un po dopo vediamo dove riusciamo a piazzare science perché dai leclerc che dovrebbe riuscire stando a due secondi otto tre secondi da perezza saldi davanti poi alla fine del p stop ok signori siamo con leclerc davanti avevamo già superato perez prima ancora che intervenisse il cambio p stop noi adesso stiamo uscendo sta arrivando perez dietro attenzione limite forse non ce la facciamo invece ci mettiamo restiamo davanti restiamo davanti perfetta strategia della ferrara in questo caso perfetta noi con senza siamo quarti a questo punto rientra anche lui si farà un giro a tutta a tutta letteralmente a tutta mentre per adesso leclerc lo teniamo così vediamo come vediamo come riesce andare science che comunque riesce a migliorare se stesso quindi riesce a tirare fuori il massimo dall'ultimo grammo di mescola secondo me non riuscirà a star davanti a a be a bernard non lo so vediamo 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 tutto perfetto non se affanno ce la fa neanche il saldo avanti a norris non ce la fa nemmeno a saldo avanti a ricciardo off mamma mia vabbè siamo davanti a emilton che sta appena per esposso lì e questo non va bene questo per quanto riguarda la classifica piloti non va a classifica costruttori scusate non va affatto bene dobbiamo gestire la cosa meglio leclerc intanto continua butta dentro un altro giro veloce a questo punto possiamo stare in gestione con lui e cercare di attaccare un po di più con science science che si trova davanti ricciardo che lo deve superare in pista e pure norris solo bernard potrà superarlo grazie p stop ma questi li deve mangiare noi abbiamo la macchina più veloce in assoluto la più performante sotto ogni punto di vista qui science deve tirare fuori qualcosa di più a dietro di 6 milton quindi non sarà facile nemmeno per lui però dobbiamo assolutamente tira fuori qualcosa di meglio noi ci ricolleghiamo all'ultimo p stop che non riusciremo a portare a casa la mescola così con un cambio solo dobbiamo fare due soste quindi a tra poco ragazzi però credo che leclerc con la maggiore abbiamo fatto sicuramente si porterà a casa un'altra vittoria sempre sono uscite qualcosa di strano e manca farla apposta due secondi dopo rischiamo il drive to rischiamo il drive to drive to dobbiamo fare un drive to incredibile o science questa roba qui ci ammazzerà ci ammazzerà ci ammazzerà tanto a livello di mamma mia a livello di come si dice classifica costruttori rischiamo di uscire fuori dalla zona punti e me la sono cacciata e me la sono cacciata sì senza probabilmente con quel taglio di pisa farsi giro più veloce no faldai tu diretto ok lo fa da solo va bene va bene niente ci ricolleghiamo dopo questa roba qui ottavi poteva andare peggio poteva dare anche meglio però ma vabbè ok ragazzi ultimo pistop per leclerc lo portiamo dentro adesso che abbiamo circa 20 secondi di vantaggio si trova qua perez dietro davanti su compagni di squadra per stappi in questo ci va tra virgolette anche bene per un discorso di classifica piloti siamo davanti si molto bene molto bene teniamo giù pure la strategia non esageriamo assolutamente non esageriamo stavamo portando avanti discorso di consumo gomme totale quanto male c'è un problema di di carburante con attività da science non so cosa sia successo ma a questo punto doveva andare al risparmio e tra poco fare un cambio anche con lui ora il discorso è questo guardate dove si trova abbiamo davanti emilton norris ricciardo e bernard sono tutti lì e vince che si ferma per ultimo in realtà vince che si ferma per ultimo vediamo mancano mancano un po di giri alla fine vediamo se riusciamo a gestire questa cosa science lo vorrei far rientrare un po più dopo un po dopo vediamo se riusciamo a restare collegate con un po ragazzi insieme con me in macchina con carlo science vediamo se riusciamo a portare qualcosa di meglio tanto leclerc sta facendo una gara da solo a parte giri veloci su giri veloci zero problemi su zero problemi veramente lo mettiamo in strategia normale che tanto non deve rischiare non deve rischiare gomme fredde per la science che non può spingere più di tanto perché sennò non ci basta carburante facciamo la fine di bottas o di emilton negli ultimi gran premi gomme consumate lo so lo so vediamo tanto l'attacco qui di emito non va a buon fine per su norris siamo quelli che hanno le gomme più consumate di tutti bernardo dove infilarsi nei box così non è e dobbiamo dobbiamo gestire la cosa un po anche noi o a questo punto a fermarci mancano 14 giri montare le super morbide montiamo le super morbide ragazzi fermiamoci anche con science sperando che si fermino tutti magari perché con science con le super morbide non si fermano tutti i bernard si ferma però vediamo se riusciamo a sopassarlo no no ed avanti a questo punto di spingere amico mio science deve spingere ci vediamo a fine gran premio quando mancheranno 12 gira fine ragazzi signori ci colleghiamo quello schianto di science niente davvero patetico lo dico io davvero patetico science perché questa cosa qui ci costerà una bordata di punti o mio dio science poteva era l'anello debole lo sappiamo già inizio stagione che sarebbe stato l'anello debole e lo sia confermato anello debole purtroppo questa cosa qui ci costerà tantissimo ci costerà tantissimo noi a questo punto ci guardiamo le clerk girare da solo praticamente a 20 secondi da verstappen va bene per quanto riguarda la classifica piloti va benissimo la costruttura inizia a diventare difficile vincere la così però è unico ritiro nessun ritiri vi anticipo già piccolo spoiler nessun ritiro da parte dei delle prime due prime tre scuderie quindi neanche la nostra negli ultimi gran premi quindi boh dovrebbe essere uno zero importante uno zero molto importante stavamo combattendo eravamo settimi ok sono tre punti non sono quattro punti quelli che sono però possono essere tanti a fine fine campionato ultimo giro intanto per la carletta hamburghese le clerk lo facciamo tranquillo e sereno non rischiare nulla vai tranquillo e porta la casa un genio al volante si effettivamente si bandiera a scacchi le clerk vince la ferrari vince ancora e sta facendo un campionato importante lo sta facendo per davvero le clerk lo so facendo per davvero dimostra di essere pronto per qualcosa di molto importante ok ragazzi ci troviamo quindi nella schermata di fine e qua bisogna un attimo fare un punto della situazione qua vediamo già la classifica piloti ma vediamo da cui facciamo prima siamo primi con le clerk stiamo non dico dominando ma stiamo facendo campionato importante per sta appena 188 punti noi siamo a 217 quindi iniziano essere un po un po i punti di vantaggio inizio quasi ad essere 30 e emilton è a 140 emilton quasi che si chiama fuori da questa lotta perché iniziano a essere tanti punti di juiz in meno peres che non lo sarà mai sainz a 78 questo è il grande problema questo è grande problema signori veramente grande andiamo a vedere la crisi via scuderia e siamo primi ma guardate lì per soli tre punti addirittura gran premio precedente avevamo fatto il cambio con la red bull la red bull ci aveva sorpassato per quanto riguarda il la classifica costruttori dobbiamo stare molto attenti vedete che mercedes abbiamo praticamente sia noi che red bull c'è più di 100 punti di vantaggio quindi la mercedes non è più un problema ed è terza non la mclaren non riuscirà a darla a toccare soprattutto questo punto di vista la classifica costruttori è immobile si giocheranno la quinta sesta piazza alpine alpine alfa romeo scusatemi alfa tau e rimarrà lì aston martin e william si giocheranno i punticini rimasugni mentre l'asse ancora 0 ora vediamo come sono andati i gran premi precedenti quindi andiamo vediamo se mi ricordo qui esatto allora noi ci siamo salutati a baku se non ricordo male con la vittoria di leclerc e un quarto posto di science istanbul park istanbul park vedete già che ci manca qualcosa allora nelle qualifiche leclerc seconda posizione 180 solamente per un 10 due decimi versate ci ha rubato la pol science arrivato un onesto quarto posto in gara leclerc ha confermato la seconda posizione e vi devo dire di più era tanto tempo che non registrava non giocavo quindi ho peccato un po di ruggine avevamo vinto sicuramente anche questo è stato un po di pioggia non l'ho gestita bene e infatti science fuori dalla zona punti a zero è rimasto a zero questo ci ha penalizzato oltremodo perché vedete comunque mercedes e redwood hanno piazzato le loro monoposto nelle fasce più alte poi ricard andiamo sulle qualifiche poi ricad paul paul di leclerc science arriva quinto addirittura quasi un secondo dal suo compagno di squadra in gara signori per stappen fa le magie come come emilton leclerc limita i danni perché limiti dammi perché manca sempre qualcuno leclerc science che fuori nuovamente per due volte consecutive stampa uno zero importante quella di oggi è la terza in quattro gare capiamo dove stanno mancando i punti sì lo chiamiamo capito tutti qua vedete si per se scusate mi ha sbagliato a cliccare ring hanno scusato ma poi ricardo perdonatemi esatto la gara e quindi è così red bull ring che mi spoiler velocissimo paul di leclerc science un secondo e due qua c'è stato un discorso di pioggia quindi non ricordo esattamente se ho fatto uscire prima science dopo non qui conta un po quello che conta i vantaggi i distacchi per quanto riguarda la pole in gara in gara la sua cosa di importante io qui iniziato a pensare che i nostri amici della red bull e la mercedes avessero fatto diciamo qualche giochetto fuori dalle regole per poter riuscire a stare al passo nostro effettivamente emilton è stato sanzionato perché è arrivato terzo sainz era quarto un onesta quarta posizione è stato sanzionato quindi con la posizione la pente di due posizioni emilton per un componente che era fuori regolamento e quindi abbiamo avuto la riprova che effettivamente mercedes ha provato a girare regolamento riprova che per ora non ce l'abbiamo per quanto riguarda a first happen che secondo me però anche lui hanno fatto un po stanno facendo facendo un po i magheggi anche loro della red bull sicuramente per se un decisamente miglior secondo pilota perché qui science è riuscito arrivare terzo ha piazzato buoni punti però niente si va solo abbiamo visto come andata a finire incidente zero punti mentre i nostri amici di red bull ne hanno portato a casa 18 per e quindi ci fa stappe che ci va anche bene perché quei due punti in meno le crea che si sta portando a praticamente a casa sempre il giro veloce dimostrazione che lui è uno dei migliori piloti in circolazione e la macchina è la migliore stiamo stiamo cercando di racimolare poco che massa per riuscire a portarci a casa le vittorie ora a livello di classifica abbiamo visto che siamo messi bene bene per la piloti e non benissimo per la costruttori però siamo primi e dobbiamo mantenere questo vantaggio come vedete la monoposto è la migliore in assoluto la migliore in assoluto i piloti sono i migliori nonostante tutto come corte generale sponsor e meccanici no ma chi se staff vabbè questo non abbiamo capito cos'è a livello di monoposto siamo la migliore migliore nel motore migliore nel cambio migliore nel freno migliore nella lettone anteriore migliore nelle sospensioni e migliore nella lettone posteriore questa macchina qui la mission win stavolta si now è veramente una macchina che può vincere il campionato quello piloti sono abbastanza tranquillo che il nostro amico leclerc riuscirà a portarselo a casa o di grossi nutro grossi dubbi per quanto riguarda science deve iniziare a fare qualcosa di più io non gli sto dando una macchina decisamente meno performante è leggermente sotto solamente nel motore un po paga solamente nel motore un po paga ma se noi andiamo a vedere i componenti paga relativamente paga relativamente perché per il resto siamo lì è la differenza fa proprio il pilota purtroppo in questo caso la fa al pilota abbiamo finito di sistemare un nuovo alettone spero venga pronto vedete qua ottimo addirittura spero venga ponte in maniera tale da poter dare un alettone decisamente potente a leclerc è ottimo a science che non deve assolutamente lamentarsi si lamenta di poco meno tra per cento perché l'altra auto è migliore loro sono stato la pari ma non è vero perché non sono mai stati alla fare sempre leclerc è stato il preferito e quello che effettivamente sta regalando le vittorie ora il calendario ci presenta un po di gara ancora siamo a metà campionato praticamente a questo punto un gara in sparata ci vediamo a monza solo perché monza ci vediamo a monza dopodiché soci singapore a singapore suzuka ci vediamo a mexico city e a yes marina siamo praticamente a tre gran premi dalla fine di questo di questa serie ci vediamo monza ripeto solo perché monza perché per essere più corretto dobbiamo fare soci 1 2 3 4 soci 1 2 3 4 in terra ma è comunque siamo sempre di allora facciamo 1 2 3 monza 1 2 3 4 mexico city 1 2 3 e jas marina va bene quindi monza circuito americas e jas marina facciamo così 1 2 3 monza 1 2 3 secondo me 1 2 3 1 2 3 sarebbe gida ma ovviamente ci vediamo a jas marina comunque annetto di questi 1 2 3 ci vediamo a monza 2 3 3 4 episodi alla fine non di più mi raccomando ragazzi state addosso a questa serie perché la finiamo stavolta è vero stavolta lo facciamo per davvero vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo di lasciare un like un commento e descrizione se non l'avete ancora fatto dal terro 89 tutto dalla ferrari dalla mission win stavolta per davvero stavolta si now quello che sia è tutto abbiamo leclerc che è deciso deciso a portare avanti qualcosa di importante è deciso portare avanti qualcosa di veramente definitivo la ferrari vuole tornare a vincere ma non vuole farlo solamente con i piloti ma anche con i costruttori si chiederà uno sforzo ulteriore a science e dovevo pregare gli dei delle corse che possano guardar male perez perché il nostro rivale numero uno è lui e perez è lui che deve perdere punti e lui che deve perdere punti e riuscire e noi dobbiamo riuscire quantomeno a fargli guadagnare a science per science non è da meno è un pilota secondo me buono ma a un un valore una forma di pilota un pochino più bassa rispetto in questo momento rispetto a perez che 7,2 si è comportato meglio perez ma abbiamo fiducia che carletto che carletto spagnolo riesca a portare a casa qualche punto decisivo per la vittoria del della della classifica scuderia perché siamo veramente sull'orlo dei pochi punti quindi se riesce a bloccare tra quattro gare in cui riesce arriva a terzo secondo ce la facciamo a portare a casa che costruttori ea chiudere la serie con un perfect di vittorie sia campionale sia costruttori che piloti alla prossima ragazzi ciao